Dopo la convention regionale del centrodestra a Palermo si profila netto il tracciato politico e amministrativo per il governo in Sicilia e i rapporti con Roma. Giuliana Amicichè. Dopo la convention regionale del centrodestra intorno al candidato presidente Renato Schifani emergono alcuni punti cardine del tracciato politico e amministrativo che si intende percorrere. E al Politeama a Palermo tra l'altro ci si è riferiti anche ai rapporti con Roma. Infatti le parole di Schifani. Non mi sottometterò ai sottosegretari e ai ministri perché sono Renato Schifani. Dialogherò da pari a pari con il governo nazionale senza vincoli e senza sottomissioni. E poi a fronte della zavorra della burocrazia l'ex presidente del senato ha sottolineato. Ho trovato la Sicilia peggiorata rispetto al passato. Chi non consentirà di farmi lavorare se ne andrà a casa. Nel tempo in cui gli imprenditori aspettano un sì o un no, la burocrazia dice nì e gli imprenditori fuggono. Noi dobbiamo cambiare questa macchina. Devono decidere o sì o no. Se no vanno a casa. Poi Berlusconi in videocollegamento ha rilanciato il valore dell'unità della coalizione di centrodestra. Siamo partiti diversi. Abbiamo un linguaggio diverso ma questa diversità è una ricchezza perché è un rapporto sincero. Ci sarà una straordinaria vittoria del centrodestra. Per la prima volta dal 2008 gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati e sceglieranno sicuramente il centrodestra. E' stato per noi di Forza Italia del tutto naturale indicare il nome di Renato Schifani non soltanto per la sua storia che lo ha portato a ricoprire la seconda carica dello Stato, ma per la sua personale autorevolezza, la sua competenza, il suo appassionato impegno per la sua e la vostra meravigliosa terra siciliana. I governi che io ho guidato sono stati nella storia della Repubblica quelli che hanno investito più risorse per il mezzogiorno ed anche quelli che hanno ottenuto i risultati più importanti nella lotta contro la criminalità mafiosa. Questo anche grazie a leggi delle quali proprio Renato Schifani è stato protagonista in Parlamento. Ma ora dovremmo fare ancora di più. La Sicilia deve diventare attrattiva per gli investimenti e quindi sicura, facilmente raggiungibile, ben infrastrutturata. Il ritardo in questi settori è un grave svantaggio competitivo per i siciliani, per le loro imprese, per aumentare gli investimenti dall'estero. Io personalmente considero questo ritardo una vera e propria vergogna nazionale. Considero il fatto che a 160 anni dall'unità d'Italia si debba ancora parlare di una questione meridionale il peggiore fallimento delle classi dirigenti del nostro paese. E sulla stessa lunghezza d'onda si è sintonizzato il leader della Lega, Matteo Salvini. Per la prima volta nella storia la Lega contribuirà al buon governo della Sicilia. C'è bisogno di un'isola che viaggia, che lavora, quindi infrastrutture, strade, ferrovie e ponte sullo stretto. C'è bisogno di un'isola pulita, troppi anni persi senza fare i termovalorizzatori. I rifiuti devono essere energia, calore e ricchezza. Non possono essere un peso economico e sanitario per i siciliani.